Che fine hanno fatto i nativi americani? Colombo, dopo la scoperta dell'America, permise agli europei di importare in America alcuni virus, alcune malattie, che i nativi americani non conoscevano. Molti di loro morirono uccisi direttamente dagli europei. Moltissimi di loro morirono a causa delle malattie importate dagli europei. Alcuni dicono che morirono il 95% della popolazione nativa americana. I più pessimisti dicono che sono morti il 98% della popolazione nativa americana. Le malattie importate dagli europei sicuramente avranno ridotto drasticamente la popolazione esistente in America prima dell'arrivo degli europei.